Musica Innanzitutto sono molto contenta e fiera che sia un premio che è tornato in Piemonte dopo la consegna a Damiani. Per me rappresenta un ottimo motivo per andare avanti con entusiasmo e per affrontare così nuove sfide. Per una donna, come nel mio caso, che lavora da 15 anni in un settore non facile come quello agricolo, vedere apprezzato e riconosciuto il proprio lavoro è sicuramente uno stimolo importante per guardare avanti e per vedere appunto apprezzato lo sforzo e l'impegno in un lavoro non sempre facile. Io non sono autolo celebrativa, non me l'ho insegnato e quindi per me è un grande vanto, un grande piacere personale e anche penso e spero anche un motivo di modello per tante donne imprenditrici che hanno bisogno di avere la forza e avere davanti l'esempio di qualcuno che riesce ad andare avanti e a superare certe volte anche ostacoli. Evidentemente il fatto di essere giovane, essere donna, essere diciamo coraggiosa mi ha portato a fare delle scelte qualche volta anche in controtendenza, qualche volta non subito immediatamente comprensibili ma diciamo la filosofia aziendale, le scelte aziendali sono sempre state controcorrente ma non per partito preso ma perché da sempre, da quando nel lontano 1919 qui a Gavi si erano impiantati vitigna bacca bianca alla scolca totalmente in controtendenza e come nel corso degli anni in azienda si è scelto poi di fare delle scelte in controtendenza gli spumanti, i gavi invecchiati, così forse questa innovazione nel DNA personale diciamo Mario Soldati ne è un esempio, anche egli a suo tempo ha impostato un giornalismo totalmente contro tendenza quindi questo è direi nello spirito personale, cioè quello di sperimentare, di guardare lontano e di cercare di cambiare lo status quo delle cose che non vanno. Ripeto, io sono sicura e convinta quando penso che di avere davanti un obiettivo buono e di cui sono convinta mi ci impegno molto e vado avanti per la mia strada cercando ovviamente di trovare consensi perché secondo me è giusto condividere gli obiettivi non da soli ma insieme ad altri. Le nuove tecnologie sono fondamentali, sono uno strumento molto democratico, sono uno strumento alla portata di tutti e lo saranno sempre di più. L'agricoltura ha bisogno di essere comunicata, c'è molta disinformazione e quindi deve arrivare l'informazione di una giusta agricoltura perché una giusta agricoltura vuol dire comunicare una giusta alimentazione io penso alle scuole, alle case, agli anziani, è importantissimo comunicare quello che è nella realtà un messaggio che difficilmente riesce a raggiungere così tante persone e i nuovi strumenti sono secondo me un mezzo importantissimo di divulgazione e quindi sono una grande fautorice di questi strumenti.